questo è il cablaggio dell'elettroventola questo è il positivo che prende ovviamente dal diretto dalla batteria questa è la massa dell'elettroventola stessa questo cavo qui mi devo ricordare di rimetterlo qui perché è quello che praticamente torna dentro l'abitacolo che viola tra l'altro poi qua giù c'è anche il cablaggio dell'aria condizionata perché è venuto via tutto insieme ora questo non rifaccio da zero 1234 questi sono due femmine due femmine siamo a 42 femmine siamo a 6 siamo a 6 poi un'altra femmine siamo a 7 un maschio e qui ci sono due tre quattro femmine poi mettiamo le stringente e veniamo a noi portare l'è che questo tecnicamente lo potrei riutilizzare ma quasi quasi riutilizzare il suo questo non è provare a riutilizzare il suo mettendo un relè no allora prendiamo intanto quattro femmine per il portare e mi serve un occhiello per il cavo della batteria questo quattro femmine con il gancio non so se si vede ecco va beh c'è al dentino per incastrarlo 1 2 3 e 4 siamo a 4 poi una femmina normale quindi il cavo di massa della ventola mettiamola qua 2 4 6 normali per quell'altri agganci che poi è il mare avrebbero il gancio anche i vesti se vuole si riutilizza questo come metteci e femmine con i denti se vogliamo utilizzare femmine con i denti allora per questo lecnici potrei mettere questo lecco in tranquillamente però dopo decido questa la rimetto qua nel mucchio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 4 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20 jancez water all Mi sa che non ce l'ho, sai tu te. No, ne ho tutte senza denti. Ne ho la caotra. E allora, niente, si usano tutte le vende senza denti. Quattro per il re con i denti così si incastrano. Il resto ne uso senza. Adesso ci metto la guaina tenere un restringente e sto a posto. Quindi, quattro per il re ci sono. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Una, due, tre. Quattro, cinque, sei, e sette. Posto. L'occhiello libero il capo, ma è positivo. Sono preso. Mi serve poi.